Ordinanza sulle discoteche, sospese le attività di ballo, ma i locali possono restare aperti, totti, prudenti, ma non spaventati. Dalla Liguria, segnali di ripresa, partita la prima nave da crociera. Pienone nell'entroterra per il ponte di Ferragosto, verde distanziamento tra le preferenze dei turisti, tanti visitatori locali, tanti quelli delle regioni vicine. Questa sera trasmissione speciale su Telepace. All'Angelus il Papa ha invitato i fedeli a credere nella misericordia di Dio, toccando con mano la sua tenerezza. Francesco ha chiesto gesti di carità per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid. Nel segno dell'essenzialità la parrocchia di Santa Maria del Campo ha celebrato la festa dell'Assunta, salva la sagra, anche i fuochi hanno colorato la festa, tanti motivi di gioia. Il festival Chiavari Lirica riparte con il concerto dell'Alba sul lungomare, successo oltre le attese, si replica il 30 agosto e il 6 settembre al tramonto al Santuario delle Grazie. Andate in archivio l'edizione 2020 della Torta dei Fieschi in versione pomeridiana a Lavagna, alla Basilica, le celebri nozze con protagonisti, un infermiere e un medico impegnati nell'emergenza Covid. Bruno Tedino guiderà la Virtus Entella nella stagione 2020-2021, una scelta ponderata a lungo, ha spiegato il presidente Gozzi, che ha sottolineato la capacità dell'allenatore di lavorare con i ragazzi. Buonasera a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi, come avete ascoltato dai titoli, in apertura l'ordinanza che è stata emanata ieri dal Ministro Speranza in riferimento agli assembramenti di persone all'interno dei locali da ballo e sulle pubbliche piazze. Iniziative tipicamente estive, in cui il mancato rispetto delle regole di sicurezza anti-Covid ha fatto scattare l'allarme e la conseguenza restrizione. Non ci sono i presupposti per parlare di emergenza sanitaria, ha rassicurato il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. Anche nella nostra regione sono scattate le misure per coloro che rientrano da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Nella sola giornata di ferragosto sono arrivate circa mille segnalazioni presa cariche dal sistema sanitario regionale, garantendo le dovute risposte. Sentiamo. Prudenti ma non spaventati. È il messaggio rassicurante affidato ai social con cui il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si è rivolto ai Liguri al termine della conferenza Stato-Regioni, da cui sono emerse nuove misure restrittive anti-Covid. Nell'ordinanza firmata dal ministro Speranza sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteca o luoghi assimilati all'aperto o al chiuso e viene fatto obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 del mattino successivo in tutti quegli spazi pubblici dove per caratteristiche fisiche sia più agevole la formazione di assembramenti anche di natura spontanea o occasionale. Un piccolo sacrificio ha chiarito Toti spiegando che il provvedimento ministeriale sospende il ballo ma non significa chiusura dei locali che potranno proseguire l'attività di bar o ristorazione qualora sia nella loro natura esercitarle. Non ci sono i presupposti per limitare la libertà dei cittadini, ha proseguito il governatore della Liguria, che come i presidenti di altre regioni ha chiarito che al momento la sanità non sia in sofferenza, unico presupposto per cui si possano adottare provvedimenti di chiusura. Nella nostra regione sono tra i pazienti in terapia intensiva che purtroppo già da tempo stanno combattendo con il virus. Non ci sono stati nuovi ricoveri e rianimazioni e pertanto non ci sarebbero le condizioni per una nuova emergenza sanitaria. Si tratta di limitare l'esercizio del ballo in questo ultimo spicchio d'estate, ha proseguito Toti. Niente di più le regioni tollereranno. Nel frattempo sono state adottate le misure previste dalle singole asle per chi ha fatto rientro in Italia e nei 14 giorni antecedenti abbia soggiornato, transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna. Per queste persone che intendono sottoporsi a test molecolare sono attivi contatti telefonici o via mail dedicati per richiederli all'asle di appartenenza. Come segno di ulteriore ripresa proprio da Genova è partita l'ammiraglia di MSC, la prima nave da crociera che solcherà il mar Mediterraneo nel rispetto di tutta una serie di addempimenti volti a garantire la massima sicurezza a bordo. Dal porto genovese che aveva ospitato nell'emergenza sanitaria le imbarcazioni soggette a quarantene, un segnale di speranza per un settore che occupa tanti lavoratori. E anche oggi in Liguria si registrano nuovi contagi da coronavirus. 16 le persone, risultate positive a fronte di 824 tamponi effettuati. Due pazienti guariti nelle ultime 24 ore. In totale i casi attualmente positivi in regione sono 1.275, ovvero 14 in più rispetto a ieri. Cresce anche il numero degli ospedalizzati, 3 in più nelle ultime 24 ore per un totale di 25 pazienti ricoverati in tutta la regione. Dei nuovi ricoveri, due sono all'ospedale Gaslini di Genova. Restano tra i pazienti in terapia intensiva all'ospedale policlinico San Martino, sempre a Genova. In Asl 4 un solo paziente ricoverato all'ospedale di Sestri Levante, mentre 80 persone sono in sorveglianza attiva. E ora veniamo al Ferragosto che nel Levante Ligure ha confermato la tendenza già annunciata da alcuni giorni. Tanti i visitatori per lo più locali, molti provenienti da altre regioni, pochi stranieri, comprensibilmente, e a fare la parte da Leone e senza dubbio l'entroterra. Vediamo come si è attrezzato il rifugio delle casermette del Penna per questa estate. Abbiamo posizionato circa 60 tavole all'esterno, in sicurezza, con distanziamento per le persone. Chi arriva trova una cassa esterna, un menu prima dalla cassa. Si legge il menu, poi arriva alla cassa, chiede il piatto che ha prenotato, poi dalla cassa va in cucina alla prenotazione, viene preparato un vassoio e viene annunciato il numero del vassoio. Il signore che ha prenotato il vassoio lo va a ritirare e desce da un'altra uscita e si sceglie il tavolo che vuole. Questo vi ha permesso di accogliere più gente? Avete visto un afflusso maggiore? Sì, sì, diciamo che abbiamo avuto un afflusso maggiore, diciamo che abbiamo lavorato anche parecchio sulle camere. La gente ha un po' riscoperto queste zone? Sì, sì, nettamente ha riscoperto, tutti i dintorni, i sentieri, le escursioni, tutto. È stata una cosa, sicuramente non ci aspettavamo nemmeno questo afflusso, ecco. Siamo contenti, l'impegno è stato tantissimo e diciamo anche l'impegno economico per la riapertura è stato molto consistente però sta dando dei risultati. Quanto ha pesato il periodo del lockdown, anche a livello economico ma anche a livello di impegno? A livello di impegno tantissimo, a livello economico principalmente, le disinfestazioni che avvengono poi tutti i giorni e tutto quello che è avvenuto in seguito, la modifica, aperture e tutte queste cose qua hanno comportato un sborso economico notevole. Hai visto gente nuova che magari non veniva da tempo? Sì, sì, abbiamo visto gente nuova anche da altre regioni, da altre province, sì, sì, parecchie gente nuove abbiamo visto. Si vede che comunque vedendo l'ambiente che abbiamo creato, perché abbiamo creato un ambiente molto particolare, ci fanno tutti i complimenti. Al tema del turismo nell'entroterra sarà dedicata una puntata speciale di Direttamente su Inonda questa sera. Ora veniamo alla cronaca. Tre ragazzi sono stati denunciati dai carabinieri di Santa Margherita Ligure per rapina, lesioni personali e furto con destrezza. Lo scorso febbraio avevano rubato alcuni portafogli, smartphone e altri oggetti di valore all'interno di una discoteca, sfruttando la disattenzione degli avventori. Una volta uscite dal locale, poi hanno aggredito un 19enne di Rapallo, colpendolo con calce pugni, rubandogli poi il portafogli. Gli agenti, grazie ai filmati dei sistemi di sorveglianza, hanno identificato i responsabili due sanmargheritesi di 19 e 18 anni, uno residente a Cicagna di 20. Tutti e tre avevano già precedenti di polizia. Sempre a Santa Margherita Ligure, un 29enne di Roma è stato denunciato dai carabinieri per aver aggredito all'interno di una discoteca un ragazzo di 23 anni milanese lo scorso mese di luglio. Il 23enne era stato trasportato all'ospedale di Lavagna e giudicato guaribile in 30 giorni dal personale sanitario. Il 29enne è stato identificato dagli agenti e in seguita ad accertamenti denunciato per lesioni personali aggravate. Ora andiamo a leggere una notizia sul nostro sito, teleradiopace.com. C'è un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da parte dell'Associazione Italia Nostra, presentato in riferimento al Piano Urbanistico Comunale di Chiavari per la zona di Premi. In particolare nel documento viene contestata la realizzazione di un nuovo volume residenziale a ponente della colonia Piaggio ed il prolungamento della passeggiata a mare che dovendo condurre al nuovo edificio dovrà essere percorribile anche con le auto. Il ricorso presentato dall'Associazione Ambientalista si fonda sul fatto che in quella zona sorge il depuratore e questo comporta un vincolo di 100 metri inedificabili attorno all'impianto. E se è pur vero che il nuovo depuratore sarà realizzato in colmata, è anche vero, scrive Italia Nostra, in una nota che le trasformazioni urbanistiche sono immediatamente eseguibili mentre la dismissione dell'impianto di Premi avverrà solo dopo la costruzione del nuovo depuratore. Inoltre, secondo l'Associazione, le condizioni ambientali e normative sono cambiate rispetto all'approvazione della conferenza dei servizi avvenuta nel 2011. Il Comune di Cogorno ha proposto di affidare i lavori di messa in sicurezza del tratto terminale del rio Remigiano a Lati Edil 2SRL, impresa traversone di Genova, che si è giudicata alla gara d'appalto offrendo un ribasso del 24,6%. L'opera prevede la sistemazione dell'alveo del corso d'acqua che scorre nel centro abitato di Panesi a Cogorno al fine di mitigare il rischio idrogeologico. Si intendono le verifiche della Commissione di Gara che, in caso di esito positivo, porteranno alla giudicazione definitiva e alla partenza dell'intervento. Intervento che ha un costo complessivo di 801.250 euro, di cui 560.875 finanziati da Regione Liguria e la restante parte con fondi comunali, con un contributo di città metropolitana pari a 50.000 euro. La pagina ecclesiale. All'indomani della solennità dell'Assunta, Francesco è tornato ad affacciarsi in Piazza San Pietro per la preghiera dell'Angelus. L'invito che ha rivolto ai fedeli è ad imparare la preghiera della donna cananea che dimostra di aver intuito la bontà del Signore. Il pensiero del pontefice è andato poi alle tante situazioni di difficoltà nel mondo e alla famiglia che soffrono la perdita del lavoro a causa dell'emergenza coronavirus. La preghiera della donna cananea presentata dal Vangelo Domenicale fa da filo conduttora la riflessione proposta dal Papa all'Angelus, una pagana che dimostra di aver intuito la bontà del Signore. Con l'esempio di questa saggezza piena di fiducia il Papa è esortato a toccare la tenerezza di Dio qualunque sia la nostra condizione umana. Ognuno di noi ha la propria storia e non sempre è una storia for export, non sempre è una storia pulita. Tante volte è una storia difficile con tanti dolori, tanti guai e tanti peccati. Cosa faccio io con la mia storia? La nascondo? No, dobbiamo portarla davanti al Signore. Signore, se Tu vuoi, puoi guarirmi. Dalla scena evangelica della cananea che implora aiuto a Gesù per la guarigione della figlia malata scaturisce una seconda riflessione che aiuta a comprendere il coraggio di questa madre, in grado di intuire che la bontà del Dio Altissimo presente in Gesù è aperta ad ogni necessità delle sue creature. Questo che ci insegna questa donna, questa brava madre, il coraggio di portare la propria storia di dolore davanti a Dio, davanti a Gesù, toccare la tenerezza di Dio. Al termine della preghiera mariana Francesco ha pregato per il Libano e per altre situazioni drammatiche nel mondo. In particolare il Papa ha detto di seguire con attenzione la situazione post-elettorale in Bielorussia. Quindi ha rivolto un pensiero a questi giorni di ferie e alle famiglie che soffrono a causa dell'emergenza Covid. In tante famiglie che non hanno lavoro, che hanno perso il lavoro e non hanno da mangiare, anche che le nostre pause estive siano accompagnate della carità e della vicinanza a queste famiglie. In molte comunità parocchiali della Diocesi la festa dell'Assunta è stata celebrata con particolare solennità. Anche quest'anno nella comunità parocchiale di Santa Maria del Campo si è celebrata la festa senza rinunciare a niente. Oltre ai riti religiosi c'è stato spazio per la Sagra, per i fuochi, sebbene nel segno dell'essenzialità. Essenziale come la Vergine, la parrocchia di Santa Maria del Campo non ha mancato di festeggiare la patrona, nostra Signora Assunta, pur nell'attenzione alle norme. Monsignor Alberto Tanasini ha celebrato l'Eucarestia sul piazzale accanto alla Chiesa invitando tutti a ritornare all'essenzialità della devozione mariana e ad uno sguardo alto sull'esistenza. È stato forse più bello degli altri anni perché, come dice sempre Don Davide, come ce lo ricordo ogni domenica, finalmente si è capito che cos'è l'essenziale. Tutta la gente però tradizionalmente era molto attaccata a questa festa e allora abbiamo deciso di fare la solita Sagra però solo trasporto seguendo tutte le prescrizioni Covid e novità di quest'anno, grazie anche ai giovani della parrocchia che sono prestati a questa devità, abbiamo fatto servizio a domicilio, tutto ricavato, viene fatto per la parrocchia e per aiutare le varie famiglie in difficoltà della pandemia. Voi avete anche un sacco di altri progetti, fra cui quello del campetto, come sta andando? Il campetto sta andando bene, è già finito praticamente l'impalcato, mancherebbe la soletta per mettere il campo sintetico e poi finire i lavori di finitura. Essenziale anche lo spettacolo esteriore, una sequenza di colori che ha voluto ricordare i misteri del rosario. È stato il nostro modo di voler festeggiare l'assunta, in questo momento molto difficile con la pandemia abbiamo voluto dare un segno di rispetto per ringraziarla di tutto ciò che ha dato a noi, nel nostro modo di rispettare e di pregare la nostra assunta. Nonostante la pandemia, i bambini e i ragazzi della parrocchia nel corso dell'estate sono riusciti a trascorrere alcuni momenti insieme. Abbiamo aspettato che scemasse un pochettino i contagi e poi abbiamo fatto una pizza insieme, poi c'è stato un momento con i seminaristi, non abbiamo sempre mantenuto i contatti. Tanti motivi di gioia, l'annuncio dell'ordinazione sacerdotale di Don Andrea Costa, originario della parrocchia al prossimo 13 settembre e la nomina parroco di Santa Maria e San Martino di Noceto di Don Davide Sacco, che fino ad oggi era amministratore parrocchiale. Per lui la commozione per i tanti volti incontrati fino ad oggi che, ha detto, testimoniano la misericordia del Signore. Don Davide per me, ma non solo per me, penso per tutti noi, è veramente un pastore. Non so come dire, avevamo proprio tutti gli occhi lucidi stasera. Da domani si potrà fare richiesta di accesso ai voucher per frequentare le scuole paritarie in Liguria. Il bando aperto dalla regione resterà aperto sino al 18 settembre e comunque sino ad esaurimento dei fondi. È previsto uno stanziamento di 2 milioni e 800 mila euro per far fronte all'emergenza Covid e andare incontro alle categorie più colpite. Il contributo della regione potrà essere concesso a fronte di regolare iscrizione all'anno scolastico 2020-2021 in una scuola paritaria e potrà essere presentato dalle famiglie attraverso gli istituti scolastici per alunni iscritti a scuole paritarie dall'infanzia e secondarie di secondo grado. Sarà poi la struttura a presentare la domanda di contributo a Filse per conto della famiglia accedendo al sistema dei bandi online. Il voucher, del valore previsto di 160 euro una a tantum pro quota per ciascun bambino e alunno, resterà alla scuola ma eviterà l'aumento delle rette e sarà un aiuto per molti istituti a rischio chiusura. Ha avuto un successo di pubblico superiore alle attese il concerto all'alba che si è svolto sul lungomare di Chiavari, il primo di tre appuntamenti del festival Chiavari Lirica organizzata dall'assessorato alla cultura del comune in collaborazione con l'associazione Cantiere Malpopene. Sul palco, o meglio in riva al mare, un tenore, un due soprano accompagnati in questo suggestivo viaggio al pianoforte. Come è andata l'alba di Chiavari? È andata molto bene ed è stata anche estremamente emozionante perché il tempo ci ha benedetto e la cittadinanza ha risposto in modo magnifico e caloroso, quindi è stato veramente un inizio entusiasmante di questo trittico di concerti col quale il comune cerca di mandare avanti il festival Lirico nonostante le difficoltà oggettive che ci sono state quest'anno. Avete sentito però il calore del pubblico? Assolutamente sì, assolutamente sì, è stata una bellissima, piacevolissima sorpresa, certo. Perché da sostegno, no? È fondamentale, accidenti, è fondamentale. Poi insomma una presenza veramente notevole, io non me lo aspettavo, devo essere sincera, quindi benissimo. Una grandissima emozione cantare all'alba, vedere tutto che si risveglia, gli occhi delle persone, il calore, tanto calore. È stato molto emozionante anche per noi cantanti. Poi voi cantanti siete un po' una squadra, avete fatto squadra, no? Sì, noi siamo una squadra, sì, colleghi, amici. Oltre la musica c'è tanto affetto. Non è stato facile di prima mattina, però ci abbiamo messo a tutta. Ringrazio il Comune, Silvia, Staning e tutto il pubblico presente perché è stato veramente molto caloroso, ci ha fatto sentire la presenza e l'affetto, ecco. Ma che effetto fa a suonare? Non hai abitudine per voi, no? Per niente, assolutamente no. All'inizio è stato difficile, però ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti. Il prossimo concerto all'alba è previsto per domenica 30 agosto alle 6.20, sempre sul lungomare, nuovamente protagonista Massimiliano Piccioli con Davide Piaggio e la soprano Cristina Martufi. Si chiuderà domenica 6 settembre, questa volta al tramonto, alle 19, al Santuario di Nossa Signora delle Grazie con gli archi all'opera del Teatro Carlo Felice. Nella tradizione feragostana lavagnese non è mancata anche quest'anno la tradizionale rievocazione delle nozze tra i conti fieschi. Un'edizione rivista nel rispetto delle norme anticontagio, ma non per questo sottotono. Anzi, non sono mancate le suggestioni e gli spunti di riflessione proprio collegati al tempo presente. L'edizione 2020 si è svolta nel tardo pomeriggio del 14 agosto, lungo la via di accesso che porta la Basilica di Santo Stefano. Gli organizzatori hanno voluto rendere un omaggio al personale sanitario che si è prodigato nel corso dell'emergenza. Per questo motivo i conti o pizzo fieschi e bianca dei bianchi sono stati impersonati da Massimiliano Del Rio, infermiere del servizio emergenze, e Valeria Rostan, medico dell'ospedale di Lavagna. Le stiamo vedendo in queste immagini. Emozionati entrambi hanno raccolto gli applausi del pubblico presente tenuto a distanza dietro le transenne. A scandire il susseguirsi degli eventi celebrativi, come sempre, la presenza di Marco Raffa. La formula è stata gradita dal pubblico che ha manifestato il proprio consenso, applaudendo alle rappresentazioni dei gruppi dei sestieri, sbandieratori, musici, le grazie d'amore e i flos duellatori. Ora una notizia di calcio sarà Bruno Tedino, l'allenatore della Virtus Entella per la stagione 2020-2021. Dopo la rescissione del contratto con il tecnico Roberto Boscaglia, oggi la società ha ufficializzato la nomina. Il presidente bianco celeste Antonio Gozzi ha detto che si è trattata di una scelta ponderata a lungo, che si è basata sulla capacità del nuovo allenatore di valorizzare il progetto della società. Gozzi ha anche sottolineato come abbiano influito nelle selezioni le capacità di lavorare con i ragazzi, manifestate dal tecnico, che dalle giovanili si affacciano alla prima squadra. Bruno Tedino l'anno scorso sedeva sulla panchina del Teramo in Lega Pro. Chiavari è la prima città del Tigullo, la terza in Liguria, ad avere una guida turistica City Games. Attraverso il proprio cellulare è possibile andare alla scoperta della città, accompagnati virtualmente da una persona qualificata del posto, risolvendo anche alcuni semplici enigmi che ne svelano curiosità ed aneddoti. Vediamo. Ciao, io sono Ilaria, sono un'archeologa e una guida turistica. Ti do il benvenuto a Chiavari, che è la mia città. Vedremo questo servizio nella seconda edizione alle 20.30, la linea ora al TG2000. Sono 320 nuovi casi e 4 le vittime diminuiscono i contagiati al diminuire dei tamponi, ma aumentano i ricoveri stretta sui controlli a rientri in aeroporto e nei luoghi della Movida. Chiavari è la prima città nel Tigulio, la terza in Liguria, ad avere una guida turistica City Games. Attraverso il proprio cellulare è possibile andare alla scoperta della città, accompagnati virtualmente da una persona qualificata del posto, risolvendo anche alcuni semplici enigmi che ne svelano curiosità ed aneddoti. Vediamo. Ciao, io sono Ilaria, sono un'archeologa e una guida turistica. Ti do il benvenuto a Chiavari, che è la mia città. Basta un clic sul proprio telefonino per andare alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Chiavari, scoprendo anche qualche mistero e curiosità, accompagnati da una guida turistica del posto, reale, ma da tenere in tasca e portare con sé in giro per la città. Tutto questo è City Games, un percorso a tappe multimediale per scoprire la città in totale autonomia e sicurezza. Chiavari è la prima del Tiguglia a fornire questa possibilità ai propri visitatori. La terza in Liguria, dieci tappe, con inizio in piazza Nostra Signora dell'Orto, dove ci si può traspostare seguendo le istruzioni e rispondendo ai quiz. Da tempo pensavo a un modo per automatizzare il nostro lavoro, ma senza perdere quella parte legata alla persona. Quindi questo è un sistema che permette veramente di essere indipendenti e di aggiungere tra l'altro quel guizzo di gioco che spesso manca in una visita guidata normale. Molte persone considerano le visite guidate noiose quando la guida non ci sa fare. In realtà in questo modo si riesce ad essere coinvolti maggiormente in prima persona. E poi in tempi di Covid, non dimentichiamoci, è un modo per mantenere assolutamente le distanze sociali, non si tocca nulla a parte il proprio cellulare. Come funziona? In maniera molto semplice, si va sul sito citygame.tours, si acquista il tour desiderato, in questo caso ovviamente il tour di Chiavari, che è stato ispirato al Festival della Parola, infatti si intitola La città dei portici in dieci parole. e si acquista il tour, si ottiene un codice, tramite questo codice si accede al tour e il cellulare ti guida attraverso un itinerario che è stato pensato da una guida turistica autorizzata. Ad ogni tappa ovviamente si viene condotti fino al luogo dove bisogna arrivare. C'è una spiegazione che può essere o in audio oppure con un testo pdf, quindi con un testo scritto. bisogna risolvere un quiz molto interessante alla scoperta di alcuni particolari e cose curiose sulla città e poi c'è la possibilità di caricare delle fotografie che vengono utilizzate per creare un fotolibro ricordo personalizzato dell'esperienza. In previsione ci sono altre realtà che saranno implementate? Sì, Chiaveri è la prima città del Tiguglio, altri ne usciranno e le prossime cittadine rivierasche coinvolte saranno Portofino, la vicina Lavagna, Camogli e molte altre. Ora passiamo alla pagina sportiva con il calcio. Sarà Bruno Tedino, il nuovo allenatore della Virtus Enteda nella stagione 2020-2021. La notizia è stata ufficializzata nel pomeriggio di quest'oggi dalla società di Via Gastaldi dopo la rescissione del contratto con il tecnico Roberto Boscaglia. Il presidente bianco celeste Antonio Gozzi ha detto che si è trattato di una scelta ponderata a lungo che si è basata sulle capacità del nuovo allenatore di valorizzare il progetto della società. In particolare Gozzi ha sottolineato le capacità del mister di lavorare con i ragazzi che dalle giovanili si affacciano in prima squadra. Bruno Tedino lo scorso anno siedeva sulla panchina del Teramo in Lega Pro sino all'esonero il 16 di febbraio. Le altre notizie della giornata ce le riepiloga Giacomo Rizzi nel Consueto Punto News. Vigili del fuoco in azione questo pomeriggio per recuperare una famiglia che si è smarrita sul Monte Agliona. Durante un'escursione sono stati colti dalla nebbia e hanno perso l'orientamento. Sono stati rintracciati dai Vigili del fuoco di Chiavari e dall'elicottero condividendo la propria posizione tramite un'app di messaggistica. L'amministrazione di Rapallo ha consegnato questa mattina una targa di ringraziamento per il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Santa Margherita Ligure, Simone Clemente, che a fine mese lascerà al Tigulio. Clemente ha colto l'occasione per ringraziare tutte le persone con cui ha collaborato in questi anni. Identificati gli autori dall'abbandono di un frigorifero in via Tedisio a Lavagna, grazie al sistema integrato di videosorveglianza e delle telecamere che rilevano le targhe. I trasgressori saranno sanzionati. Nuovo candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di San Colombano-Certenoli per il gruppo Territorio e Sviluppo. Sarà Claudio Solari, 43enne, capogruppo uscente, con una lunga esperienza da consigliere comunale. Insolita avventura per gli appassionati di alpinismo lento dell'associazione Mangia Trekking, guidati in un'escursione lungo l'alta via dei Monti Liguri per la Val di Vara e la Val di Taro, dove sono collocate le pali rotanti degli impianti eolici. Al parco delle Fontanine di Rapallo si è tenuto l'incontro con l'architetto Alessandra Rotta, che ha presentato il libro Rapallo, poliedrica e polifunzionale. Racconta la storia del comune, con alcuni approfondimenti. L'evento si è svolto all'aperto e si è concluso con un momento conviviale. Si apriranno domani i lavori del Meeting 2020, ospitato a Rimini. Vediamo nel dettaglio il programma, privi di meraviglie, restiamo sordi al sublime. Questo è il tema che verrà sviluppato con una serie di incontri che si svolgeranno dal 18 al 21 agosto. Quest'anno si tratta di un'edizione speciale, la partecipazione sarà consentita attraverso la via telematica, ci si potrà collegare e prenotare per ciascun evento, ma potrà essere seguita anche attraverso il canale 115 di Telepace. Su Telepace 3 ci sarà una programmazione speciale durante tutti i giorni del Meeting di Rimini per consentire anche a chi rimane a casa di seguire i vari eventi. Il primo incontro in programma è domani mattina alle 11 con l'incontro inaugurale a cui è prevista la partecipazione di Mario Draghi, già Presidente della BCE, che introduce Bernard Scholz, Presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli. Questo primo evento è programmato per domani sera alle 19 e 15 su Telepace 3, canale 115. A mano a mano poi vi daremo notizia di tutti i vari eventi e anche della loro programmazione televisiva, anche di quelli che si svolgeranno sulle piazze del Tigulio. Ora vediamo invece gli appuntamenti nell'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per martedì 18 agosto. Dalle 9 alle 13 in via Salvi, zona Tannino, a Sesti Levante, sarà allestito il mercato agricolo e delle autoproduzioni a chilometro zero. È possibile acquistare direttamente i prodotti agroalimentari della zona. Escursione alla scoperta dei lupi che vivono nel territorio del Parco dell'Avito per conoscere gli aspetti storici, ecologici e culturali della presenza dell'animale. Il ritrovo è alle 9 al Lago delle Lame, nel comune di Rezzoaglio. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi all'indirizzo di posta elettronica info.chiocciolaparcoaveto.it Il Museo Scientifico Sanguinetti Leonardini sarà aperto alle visite dalle 9 alle 12. Nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari sono esposti più di 300 apparecchi datati intorno ai primi anni dell'Ottocento. Apertura dalle 9 alle 14 per il Museo Archeologico al primo piano di Palazzo Rocca in via Costa Aguta a Chiavari. In esposizione i reperti e le testimonianze archeologiche provenienti dal territorio chiavarese. Proseguono gli appuntamenti con le visite guidate all'Oratorio dei Disciplinati di Moneglia organizzata dal Lab Ter Centro di Educazione Ambientale dalle ore 21 alle ore 23. Serate di cinema all'aperto al Teatro Conchiglia di Sesti Levante con il film di Woody Allen Un giorno di pioggia a New York. L'inizio è alle ore 21 e 30. Visti i posti limitati è consigliata la prenotazione del biglietto attraverso i canali email, whatsapp o facebook del Cinema Ariston. E si conclude così questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione di Telepace ritorna domani mattina alle 7.30 con il Tg Rassegna Stampa condotto da Marco Revello e alle 12.45 con la prima edizione di Tiguglio Oggi. Vi ricordo questa sera lo speciale reportage dedicato alla Val d'Aveto. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.